Il 28 aprile nel Parco del Sole a Collemaggio all'Aquila si svolgerà la non edizione del World Taiki Day e Festa del Kung Fu organizzata dall'associazione sportiva Tao Art, scuola di arti e discipline marziani. La giornata mondiale del Taiki Quan che dal 1999 si svolge ogni anno nell'ultimo sabato e domenica di aprile a inizio in Nuova Zelanda e secondo il fuso orario in Oceania, Asia, Europa, Nord America e Sud America. Le attività dell'intera giornata all'Aquila si svolgeranno dal mattino fino alle ore 19. Dalle ore 10 del mattino si potrà partecipare liberamente a lezioni di Taiki Quan, Kung Fu, Yoga, lezioni di cinese e di inglese per adulti e bambini. Un angolo sarà dedicato ai più piccoli con la narrazione di Fia Bia d'Oriente. Si potranno sperimentare i benefici di un cerchio sonoro e ci sarà anche uno spazio dedicato alla presentazione del libro Petali di Yoga, discipline a confronto con la presenza dell'autrice. Inoltre mostre ed esposizioni di bonsai, prodotti tipici, biosmetici, saponi e candele artigianali, libri e giochi per bambini. L'invito per tutti è partecipare all'attività e prendere parte alle lezioni liberamente, indossando abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Per informazioni e contatti rivolgersi a Tao Art, Scuola Arti Marziali e Cultura Orientale, all'indirizzo mail info-taoart.org oppure al numero di telefono 338 18 64 156. Grazie! 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 Grazie!